Grazie a tutti. e poi la polizia ci dovrà guardare se loro stanno qui e poi la polizia ci dovrà guardare se loro stanno qui e come rimaniamo? e come rimaniamo? e sette e mezza? ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo e ci vediamo no vabbè i due ci vediamo ci vediamo ci vediamo Grazie